Il sindaco Biffoni è in quarantena per avere avuto un contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, mentre gli assessori Valerio Barberis e Benedetta Squittieri sono in quarantena per essere loro stessi risultati positivi al tampone. La comunicazione è arrivata oggi. Il sindaco, già in isolamento dal giorno di Natale per un contatto sospetto che successivamente è stato confermato dal tampone, ha provveduto ad annullare tutti gli appuntamenti in presenza. Lo stesso hanno fatto i due assessori. Entrambi vaccinati mostrano condizioni di salute buone. Biffoni continua comunque a lavorare seguendo online l'attività dell'amministrazione comunale. L'appello fate prima possibile la terza dose e vaccinate i bambini. È fondamentale le parole del sindaco. Credo che per chi ha la copertura vaccinale completa si possa rivedere il periodo di quarantena, differenziando i provvedimenti per chi non si è sottoposto al vaccino.